Arrestato un pusher minorenne pescarese, sorpreso con droga ed un bilancino di precisione negli slip, ed in possesso nella sua abitazione di circa mezzo chilo di hashish, pronto per lo smercio sulla piazza del capoluogo adriatico. Lo spacciatore è stato scoperto dai militari della sezione mobile del nucleo PEF della Guardia di Finanza, a bordo di un'utilitaria che sfrecciava a velocità sostenuta per i vidi pescara, guidata da un ventenne, anche lui pescarese. Un campanello d'allarme per le pattuglie delle fiamme gialle del capoluogo adriatico ha lavoro H24 tutto l'anno sulle strade della città e della provincia per presidiare il territorio e garantire la sicurezza dei cittadini. All'alte dei militari, i due ragazzi a bordo hanno manifestato un anomalo stato d'ansia che ha insospettito i finanzieri. Durante i successivi controlli approfonditi, il minorenne è stato trovato con due pacchetti di hashish di 4 grammi l'uno nascosti all'interno degli slip. È scattata quindi la perquisizione del veicolo e poi quella domiciliare. Nella cameretta del ragazzo sono stati scoperti altri 5 panetti di hashish da 100 grammi l'uno per un totale di circa mezzo chilo di droga. Flagranza di detenzione illecita, di stupefacenti ai fini di spaccio è il reato contestato al giovane spacciatore. Sequestrati, droga, il bilancino di precisione e un telefono cellulare. Il pusher è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. L'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto del minore e la sua traduzione presso il centro di prima accoglienza del capoluogo abruzzese.